Buonasera, bentrovati alla seconda edizione del Tg6 che apriamo parlando di sanità perché sul project financing, sullo stop al progetto da parte del RUP, questa mattina il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo in conferenza stampa ha auspicato a questo punto una maggiore attenzione per l'ospedale clinicizzato di Chieti. Vediamo il servizio. È un progetto che è presentato tre anni fa, il 4 aprile 2014, cioè un mese prima delle elezioni, è un progetto che non aveva i vedi per camminare. Mancano documenti in continuazione, ci sono solleciti di carte e la procedura che invece è prevista per un progetto di finanza non è questa, ma ci sono soprattutto delle incongruenze enormi, non c'è un atto a favore dell'ente pubblico, non c'è un atto a favore della Regione Abruzzo o della ALS, si chiede il cofinanziamento, nessuno dei due enti ALS e Regione Abruzzo iscrive ancora nulla in bilancio, non si ha la capacità di bilancio di mantenere un costo, guardate si continua a parlare furbescamente di 235 milioni di euro, ma non è vero, lì si parla di 235 milioni il manufatto, poi ci sono 12 servizi che vengono esternalizzati, totale costo 704 milioni di euro e per le esternalizzazioni io credo che i nostri concittadini sanno che è stato il CUP o soprattutto il servizio mensa e ristorazione che c'è oggi nel nostro nosocomio di Chieti. Ci sono delle peculiarità che vengono evidenziate dal RUP e quindi la massima autorità, dove si dice che per esempio non c'è la revisione dei canoni quinquennale, ma si va avanti da aumento in aumento senza chiamare altre ditte per sapere se quegli aumenti sono dovuti o non sono dovuti, così come non si capisce perché dove sta scritto che bisogna se si possa fare un'app di secondo livello tra l'ospedale di Chieti e l'ospedale di Pescara. Questo viene rimesso in evidenza perché nessuno ha detto se si può fare quanti posti rimangono a Chieti e quanti rimangono a Pescara, quante unità complesse rimangono a Chieti e quante unità complesse vanno a Pescara, ancora più grave. Quello di Chieti è un clinicizzato, c'è un rapporto di convenzione con l'università. L'università sarà all'ospedale di Chieti o all'ospedale di Pescara? Io credo che prima di fare il nuovo ospedale qualcuno, questi dettagli, che non sono dettagli, ce li deve spiegare. Così come, continuo a dire, ma scusatemi, ma non si può prendere in esame quella che la nuova ingegneria antisismica pone in essere, cioè l'ingabbiamento dei due manufatti, non si può porre in essere la ristrutturazione che non costa nulla o quasi nulla del San Camillo dell'Ellis che ha resistito a tutti i terremoti e che darebbe una risposta importante soprattutto all'economia della città di Chieti. Io credo e mi auguro che questo capriccio d'Alfonsiano finisca qui e diamo subito seguito a quello che già la procura ha detto, cioè intervenire antisismicamente nell'ospedale di Chieti. Ci spostiamo a Pescara a combattere le esondazioni del fiume nella zona di Fosso Grande in Via Arno. Ne ha parlato questa mattina il Movimento 5 Stelle che ha presentato le sue proposte attraverso il consigliere regionale Domenico Pettinari per risolvere il problema sostenendo la mancanza di volontà politica di chi governa il territorio. Pettinari, su Fosso Grande e su Via Arno il Movimento 5 Stelle ha presentato delle proposte sia alla Regione che al Comune di Spoltore. Sì, assieme alla nostra consigliera Giorgia Cipriani di Spoltore abbiamo avanzato proposte fattive e costruttive. Già dal novembre 2014, quando facciamo approvare una risoluzione in Consiglio regionale che prevedeva la realizzazione di un salto idraulico a monte del Ponticello di Via Francia che interessa il Comune di Spoltore e una vasca di espansione a valle del Ponticello di Via Francia per smorzare l'impeto delle acque e per mitigare la portata delle acque. Non solo questa proposta è stata, possiamo dire, sposata, avallata dal genio civile regionale che parla in questi termini e per Via Arno che ha problemi simili di esondazione e quindi danni causati a centinaia di famiglie sempre nel territorio di Spoltore, noi abbiamo riproposto la nostra proposta sui mille laghetti che si dovrebbero andare a collocare sugli invasi naturali del fiume Pescara per mitigare la portata delle acque. Questi laghetti potrebbero prestarsi a diverse funzioni, quelle per la persca sportiva, per costruire delle fattorie didattiche, per irrigare i campi e quindi le nostre proposte sono a cemento zero e per la realizzazione appunto è un sistema sicuramente sostenibile. Abbiamo ripresentato un'interrogazione in Regione Abruzzo perché appunto non hanno dato seguito alla nostra risoluzione e purtroppo oggi dopo 7-8 mesi della presentazione dell'interrogazione siamo ancora qui a chiedere con forza di accettare questi progetti perché non ci rispondono alle interrogazioni. Sono proposte fattive per il territorio di Spoltore, non solo, proposte chiare, noi continuiamo a sollecitare l'amministrazione regionale, l'amministrazione comunale a venire incontro a quelle che sono le proposte tra l'altro condivise con i comitati, con le associazioni ambientaliste e quindi con i cittadini e con la collettività. Apriamo la pagina della cronaca, andiamo a Chieti, rapina di due persone poco dopo l'orario di apertura nell'ufficio postale all'interno del Teate Center a Chieti, stiamo vedendo le immagini, l'uno aveva il passamontagna, l'altro una maschera in gomma. Hanno atteso che andasse via la vigilanza dei libri, quindi uno dei due si è avvicinato alla direttrice dell'ufficio postale che stava ricaricando il bancomat e si è impossessato di un sacchetto che conteneva circa 12 mila euro. I due sono poi fuggiti facendo perdere le loro tracce, indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Chieti e noi restiamo a Chieti perché sugli ultimi episodi di criminalità, proprio la rapina di questa mattina al Teate Center e l'accoltellamento dei giorni scorsi accaduto allo scalo, abbiamo ascoltato il primo cittadino Umberto Di Primio che parla di Chieti come comunque di una città sicura. Sindaco Di Primio, l'accoltellamento di pochi giorni fa allo scalo, la rapina all'ufficio postale questa mattina al Teate Center, Chieti è ancora una città sicura? Ma come si fa a dire che Chieti non è una città sicura per due episodi sicuramente gravi ma altrettanto è vero che non sono una serie di episodi che possono cambiare la sicurezza della nostra città. Io rifiuto categoricamente coloro che pensano che un'attività commerciale per quanto si svolga di sera possa essere un elemento che crea violenza o crea criminalità così come penso che una rapina in un ufficio postale con quello che leggiamo ogni giorno non possa determinare una pericolosità degli uffici pubblici e postali, dei nostri uffici postali in città. Sicuramente questo invece è un elemento che deve farci comprendere che non può più esistere disinteresse da parte di nessuno, né sottovalutazione dei problemi, quello no, cioè io mi rifiuto di sottovalutare il problema delle pericolosità di alcuni episodi che si verificano durante le nottate soprattutto nella parte bassa della città così come dico che se vi è una rapina in un ufficio postale deve essere altissima l'attenzione da parte delle forze di polizia che si occupano di ordine pubblico perché ciò non avvenga più. Insieme a quello che possiamo fare come Comune, cioè il Comune deve alzare anch'esso le barriere verso questi fenomeni che sono fenomeni sicuramente preoccupanti ma che ripeto non possono cambiare quella che è la storia di una città che è quella di una città tranquilla dove episodi di violenza si verificano ma sono assolutamente episodici. Si può fare una differenzazione però tra la parte alta della città e lo scalo dove evidentemente c'è forse qualche problema in più? Guardi nella parte bassa della città c'è una concentrazione maggiore di locali dove si ritrovano la sera fino a tardi gli studenti, i ragazzi, i giovani, i cittadini di Chieti. Nella parte alta c'è una zona, quella di Porta Pescara e Via Toppi dove ci sono altrettanti locali dove ci si ritrova la notte i disagi di locali che fanno attività soprattutto durante la notte e li conosciamo, vanno gestiti, vanno controllati. Io non escludo di incontrare, sto pensando di incontrare gli operatori economici della nostra città per proporre loro delle soluzioni rispetto al controllo e alla prevenzione che devono essere fatti per combattere questi fenomeni. A cora cronaca blitz dei carabinieri del Nass Abruzzo che hanno intensificato nelle ultime ore i controlli sui prodotti legati al carnevale in tutta la regione, migliaia di oggetti sequestrati con sanzioni emesse per 10.000 euro. Andrea Costantini. Circa 5.000 prodotti tra maschere, costumi e gadget sottoposti a sequestro, oltre 10 attività ispezionate e sanzioni amministrative per 10.000 euro e il bilancio dei controlli che i carabinieri del Nass di Pescara hanno eseguito in tutto l'Abruzzo in negozi che vendono prodotti di carnevale proprio in vista della ricorrenza. In particolare in un'attività commerciale dell'Aquilano i militari del Nass, diretti dal Maggiore Domenico Candelli, hanno sottoposto a sequestro amministrativo più di 1.000 prodotti privi di marcatura CE e delle indicazioni in lingua italiana, relative a produttore, importatore, modalità di utilizzo e caratteristiche tecniche. Nel Terramano sono oltre 3.000 le maschere e i costumi sequestrati in tre negozi gestiti da asiatici poiché privi delle informazioni obbligatorie al consumatore come imposto dal codice del consumo e quindi potenzialmente pericolosi per la salute umana. I controlli dei carabinieri del Nass di Pescara erano finalizzati a tutelare la salute dei consumatori, numerosi infatti le insidie che possono nascondersi dietro maschere, costumi e gadget. Glitter e brillantini colorati possono staccarsi e penetrare facilmente negli occhi, nel naso e nella bocca. Sostanze coloranti possono provocare irritazione cutanea. Gadget e accessori come spade, lance, cappelli e caschi possono presentare bordi affilati e parti metalliche taglienti. Il pericolo maggiore è dato dal fatto che i prodotti senza marchio CE, quindi non classificati come giocattolo, possono infiammarsi facilmente a causa dei tessuti e materiali utilizzati. Circolazione fortemente rallentata questa mattina dalle 8 fino alle 10.20 sulla linea ferroviaria adriatica Pescara-Termoli per l'investimento mortale di un 24enne di Ortona che si sarebbe suicidato nei pressi della stazione di Francavilla al mare. La circolazione inizialmente sospesa su entrambi i binari per consentire i soccorsi. Ripresa alle 9.10, assenso unico alternato, su un solo binario alle 10.20, terminati i rilievi di rito da parte dell'autorità giudiziaria, è stato concesso il nulla a osta per la ripresa della circolazione. Anche sull'altro binario, durante la sospensione del traffico, la mobilità regionale è stata garantita con autobus sostitutivi fra le estrazioni di Pescara e San Vito Lanciano. Conseguenze per 15 treni, oltre al treno investitore, il Frecciabianca 8810 Bari-Milano, hanno ripartito con un ritardo di 130 minuti. Un intercity ed una freccia hanno registrato ritardi rispettivamente di 80 e 20 minuti. Per quanto riguarda i treni regionali, tre hanno registrato invece ritardi fra i 50 e gli 80 minuti. Cinque sono stati cancellati e quattro limitati nel loro percorso e sostituiti con bus. Ancora cronaca, un settantenne di Santo Stefano di Sessanio, in provincia dell'Aquila, è morto nella notte all'ospedale civile di Pescara per le lesioni riportate dopo essere stato investito da un'automobile mentre attraversava la strada a bussi sul Tirino. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio sulla strada statale 153. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava attraversando la strada dopo aver parcheggiato la sua automobile quando è stato travolto da una Ford Fiesta condotta da un giovane di Chieti trasportato in ospedale. Le condizioni del settantunenne inizialmente non sembravano gravi ma nella notte sono improvvisamente peggiorate. L'uomo è morto nel reparto di rianimazione dei rilievi e degli accertamenti. Si sono occupati i carabinieri della stazione di bussi e della compagnia di popoli. Chiudiamo l'ampia pagina di cronaca, ci spostiamo all'Aquila dove i consiglieri comunali di Cesare e Vittorini hanno convocato per domani pomeriggio a Palazzo Fibioni un'assemblea pubblica per attuare un confronto sulle tematiche più urgenti che attengono il futuro del capoluogo abruzzese Germana Dorazio. Per evitare il declino e lo spopolamento dei territori aquilani una chiamata collettiva ad associazioni, cittadini, movimenti per recuperare spazi sportivi, culturali e sociali per far vivere la città e tenere accesa la speranza di un futuro all'Aquila. A farlo è appello per l'Aquila e l'Aquila che vogliamo rappresentati in consiglio comunale da Ettore di Cesare e Vincenzo Vittorini che convocano per mercoledì 1 marzo alle ore 17.30 un'assemblea pubblica nella sala Rivera a Palazzo Fibioni. Confrontiamoci su temi cruciali per il futuro a cui finora non sono state date risposte, la sicurezza sismica dei luoghi pubblici o privati, l'utilizzo dei fondi del 4% per la ricostruzione delle frazioni, le funzioni del centro storico, il Gran Sasso e i suoi paesi, il rapporto con l'università, il Gran Sasso Science Institute con gli studenti, organizzazioni, gli spazi sociali. L'invito è rivolto a tutti quelli che hanno conosciuto il nostro percorso e che hanno ritenuto un valore aggiunto per la rinascita della città, a chi vorrà condividerlo, portando il proprio contributo anche a mettersi in gioco in prima persona. L'assemblea sarà l'occasione per rendicontare l'impegno e le azioni di controllo e di proposta, dicono i due consiglieri, in un confronto aperto e rigoroso. E ora parliamo di politica perché a seguito delle dimissioni del sindaco di Turri Valignani, Luigi Canzano, dimissioni diventate irrevocabili il 27 febbraio, il prefetto di Pescara, Francesco Provolo, ha avviato la procedura per lo scioglimento dell'organo consigliare, disponendo al contempo la sospensione dello stesso. Nell'emore dell'adozione del provvedimento di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica, la temporanea amministrazione dell'ente è stata affidata ad un commissario prefettizio nella persona del Vice Prefetto Renata Castrucci. Lasciamo la politica, parliamo di maltempo perché il Presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, ha partecipato all'incontro di ieri all'ITIS Marconi di Penne, cui ha preso parte anche il Ministro della Pubblica Istruzione, Valeria Fedeli. È stata l'opportunità per rappresentare un quadro chiaro delle criticità per l'edilizia scolastica dell'area Vestina e di tutto il territorio provinciale. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Presidente della provincia, oggi è l'incontro col Ministro dell'Istruzione, lei ha consegnato un dossier per far capire quale è la situazione delle scuole nella provincia di Pescara e qui a Penne. Ho deciso di prendere parte a questo incontro che la Preside ha organizzato col Ministro, proprio per significare le criticità che abbiamo già elencato in modo dettagliato ai parlamentari della provincia di Pescara sabato scorso. È un impegno che io devo nei confronti della comunità scolastica, soprattutto dell'area Vestina, delle scuole superiori che abbiamo qui, ma di tutto il sistema scolastico di quest'area che merita risposte certe, chiare e soprattutto ho detto al Ministro che noi dobbiamo essere messi nella condizione di poter agire anche col bilancio della provincia. Quindi le ho fatto avere un dettagliato dossier sui danni che abbiamo subito con la nevicata che ammonta 6 milioni di euro per tutte le scuole della provincia di Pescara, 2 milioni e 100 solo per i Marconi, qui di Penne e una serie di difficoltà che noi dobbiamo superare con provvedimenti straordinari che il Governo dovrà assolutamente decidere di approvare a favore delle province, in particolare di quelle della regione Abruzzo. Noi saremo anche a Roma il 2 marzo, proprio a testimoniare la difficoltà di fronte alla quale ci troviamo e sento forte il sentimento di quest'area che ha necessità di riscoprire il valore della scuola come sistema scolastico che si connette esattamente con le istituzioni locali e soprattutto con la vita economica di quest'area che non va assolutamente messa in ulteriore disagio. Anzi, bisogna far capire anche alle famiglie che le iscrizioni possono essere tranquillamente prodotte presso gli istituti che abbiamo qui a Penne e l'impegno nostro col Ministro che ci ha garantito questo sarà quello di dare spazi nuovi e funzionali per consentire attività scolastica regolare. È su questo che lavoreremo. E l'Associazione Consumatori Robin Hood di Teramo chiede che vengano riaperti i termini per la presentazione delle domande di risarcimento danni a causa del maltempo. Secondo una stima elaborata dall'Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini su 56 aziende agricole della montagna teramana, almeno 40 non hanno ancora potuto fornire le perizie giurate richieste. Tania Bonnici Castelli Conferma la propria adessione alla manifestazione del 2 marzo l'Associazione di tutela dei diritti dei consumatori Robin Hood di Teramo e chiede la riapertura dei termini per le domande di risarcimento a causa del maltempo. Secondo i dati forniti dal Presidente Pasquale di Ferdinando, su 56 aziende agricole tra Teramo, Torricella, Montorio e Rocca Santa Maria, almeno 40 non hanno ancora presentato la perizia giurata che attesti i danni subiti e i termini scadono oggi. Noi diamo piena attesione perché non riteniamo che il Governo abbia fatto, per quanto riguarda questa nostra area, il proprio dovere. Siamo di fronte a un'emergenza veramente grave perché l'accumularsi di eventi diversi in così poco tempo determina il fatto che c'è una forte migrazione verso la costa delle popolazioni dell'interno e ci sono le aziende che sono in forte difficoltà. L'altro aspetto sul quale vogliamo porre attenzione oggi è il fatto che c'è stato il bando per l'emergenza neve, quindi la possibilità da parte di privati, di aziende, di condadini di accedere ai contributi per la ricostruzione. Questo bando è volato, i termini sono volati velocemente e molti non sono riusciti a farsi fare le perizie asseverate, quindi c'è tantissima gente che ha diritto perché ha subito il danno, ma questo diritto viene negato da questo termine che è molto stretto, per cui chiediamo la riapertura di questi termini. Terza questione è la comunicazione, che l'energia rimborserà solo per tre giorni e mezzo la mancata erogazione del servizio, per cui tutti coloro che hanno avuto periodi superiori e tre giorni e mezzo devono fare domanda. Potranno portarla qui da voi? Possono venire da noi, noi daremo tutta l'assistenza gratuita, sia la mototuristica che anche eventuali assistenze per risarcimento di danni e così via, in modo gratuito siamo a disposizione. Una burocrazia dunque che si sta rivelando per i cittadini terramani più drammatica della neve. Emottorio Alvomano sta subendo uno spopolamento senza precedenti, si stima che il 60% dei residenti abbia abbandonato il paese. I commercianti montoriesi lanciano così un grido di aiuto e chiedono sostegni economici reali per ripartire. Montorio Alvomano, uno tra i comuni più belli d'Italia, sta subendo uno spopolamento senza precedenti. Si stima una cifra del 60% di residenti in meno, complici malefici, il terremoto, il dissesso idrogeologico e l'antico borgo perde giorno dopo giorno cittadini e attività commerciali. Attualmente la situazione è drammatica perché per quanto riguarda il commercio, gli eventi sismici ultimi hanno creato veramente lo spopolamento di tutta la popolazione non solo del paese ma anche di tutta la vallata, quindi da Campotosto fino a Montorio c'è stato proprio questo spopolamento verso la costa di tutti gli abitanti, la maggior parte degli abitanti, conto non ho dati, circa il 60% a mio avviso della popolazione manca nel paese di Montorio Romano. E voi che cosa chiedete? C'è un promesso che a metà gennaio al massimo, fine gennaio, ci sarebbe stato un bando necessario per la ricostruzione delle attività commerciali a Montorio, quindi un bando a fondo perduto dove prevedeva nuovi progetti e l'ampliamento delle attività esistenti, ma naturalmente non c'è stato, non se ne parla neanche più. La zona franca che sì, sicuramente è un aiuto, non è indifferente perché la zona franca per il 2017 e il 2018 significa eliminare gran parte di tutti i tributi, ma naturalmente senza un incasso eliminare i tributi, insomma veramente non sappiamo che farcene. Attualmente sul corso Valentini e eventi negozi abituali ne sono sopravvissuti solo 5. Il mercato settimanale, apprezzato e frequentato da clienti provenienti dall'intera provincia, non viene più fatto in centro, zona definita rossa e quindi pericolosa, ma questo decentramento ha dimezzato presenza e ricchezza complessiva della comunità montoriese. Noi pensiamo che è l'unica medicina necessaria, perché in questo caso non c'è bisogno dell'aspirina, c'è bisogno di una dose massicce di antibiotici, quindi un indendizzo cospicuo per poter ripartire, altrimenti non c'è possibilità. E si è svolta questa mattina presso l'assessorato regionale alle attività produttive a Pescara la conferenza di servizio che ha esaminato ed approvato la proposta avanzata da Confcommercio Abruzzo di prorogare fino al prossimo 26 marzo la durata dei saldi invernali 2017 in via straordinaria tenuto conto dei calamitosi eventi sismici e meteorologici che hanno interessato pressoché l'intero territorio regionale condizionando in negativo l'avvio delle vendite di fine stagione. Il presidente e il direttore regionali di Confcommercio Abruzzo Roberto Donatelli e Celso Cioni esprimono così la loro particolare soddisfazione per l'unanime accoglimento della proposta e ringraziano il consiglio e il governo regionali che hanno approvato la facoltà concessa alle imprese del settore commercio di estendere fino al 26 marzo l'effettuazione dei saldi. E siamo alla pagina dello sport partiamo dal Pescara che ha già ripreso da ieri in vista dell'anticipo di sabato a Marassi con la Sampdoria gli allenamenti. Pescara che può tirare un sospiro di sollievo per quando riguarda le condizioni di Caprari che dopo la botta rimediata al Bentegodi contro il Chievo si è di nuovo unito al gruppo e sempre in gruppo sono tornati anche Girardino e Baybec. Oggi doppia seduta di allenamento per i biancazzurri e le portiere bizzarri tra i pochi che si sono salvati nella partita di Verona analizza così il momento del Delfino. Tante volte non riesci a fare quello che parli, quello che dici. È vero che sono due squadre diverse. Il Genova che abbiamo incontrato la settimana scorsa non è il Chievo di oggi. Però diciamo che noi per uscire da questa situazione o per metterci ancora nella lotta dobbiamo pensare a noi e non agli altri. Speriamo in questi giorni utilizzarli per migliorare soprattutto e continuare a cominciare un'altra volta a fare punti che altrimenti non si vedono possibilità. Dobbiamo fare punti. Con 3-4 parate hai evitato una punizione più severa per il Pescara? Sì, sinceramente oggi noi abbiamo tante illusioni di venire qua e vincere perché è una vittoria qua. Ci metteva un'altra volta in gioco, dovevamo confermare tutto quello che abbiamo fatto la settimana scorsa. Non siamo riusciti e sinceramente il Chievo è stato meglio di noi. Questa è la realtà di tutto. È una squadra che ha esperienza, che sa quello che fa, che è la tipica partita complicata. Ha già svanito l'effetto Zeman? È così? No, a me non mi piace manco parlare di Zeman o di Odo perché se qua dopo si trovano confronti che non sono manco belli o manco dignitosi perché non mi piacciono. È stato un cambio d'allenatore. Il mister Odo ha fatto un lavoro grandissimo. Il mister Zeman è arrivato da poco, vuole fare anche lui un lavoro grandissimo. Speriamo di capire subito quello che lui vuole e, come ti dico prima, fare punti. Se non fai punti, se fa dura. Siamo alla Lega Pro. Diego Di Bonifacio sarà fino al termine della stagione il preparatore dei portieri del Teramo per Di Bonifacio. Si tratta di un ritorno e prende il posto di Fabrizio Grilli, il cui rapporto con la Teramo Calcio si è interrotto dieci giorni fa. Intanto la squadra è già al lavoro per preparare la sfida di domenica prossima alle 14.30 al Bonolis. Con il Venezia è stata resa nota, tra l'altro, la designazione arbitrale per la partita con il Lagunari. Teramo-Venezia sarà diretta dal signor Matteo Proietti di Terni, pugliesi i due assistenti, Cipressa di Lecce e Urselli di Taranto. Lasciamo il calcio, parliamo di rugby. Netto successo dell'Aquila Rugby in casa della Capitolina nella pool promozione. Bene anche la Gran Sasso Rugby nel match con il Noceto. New Shariocci. Una domenica reggbistica davvero molto positiva per le squadre aquilane. L'Aquila Rugby Club, nella terza giornata del pool promozione, travolge letteralmente la primavera rugby, scendendo in campo con una grande determinazione. I nero-verdi sono dominatori incontrastati sul campo romano e chiudono la partita 38-0. Siamo scesi in campo con la giusta determinazione e la voglia di dimostrare tutto il nostro potenziale, commenta l'irettore tecnico Vincenzo Troiani. Quando è così non ce n'è per nessuno. Quando è così non ce n'è per nessuno e l'abbiamo fatto vedere oggi battendo una squadra che ci aveva sconfitto prima di Natale lasciandoci un graffio dentro. I ragazzi oggi hanno interpretato bene la partita, sono stati bravi fin dall'inizio ottenendo un ottimo risultato anche in termini di gioco. Domenica prossima partita importante per la classifica dei nero-verdi. Al fattori l'Aquila ospiterà il Prorecco, nella sfida contro i Liguri che negli ultimi anni hanno sempre centrato le semifinali promozione. Anche la Gran Sasso vince in casa, ma deve combattere estrenuamente con il Noceto per aggiudicarsi i quattro punti indispensabili per risalire la classifica. Chiudendo il match 22-20. Soddisfatto del risultato, il coach Francesco Iannucci che ha dichiarato Abbiamo messo un punto fermo mentale sulla qualità della nostra prestazione, con il secondo risultato utile di seguito che fa bene alla classifica ma soprattutto alla testa della squadra. E dal rugby passiamo alla pallannuoto nuovo tonfo casalingo per la Pescara. Pallannuoto femminile, nonostante la buona volontà, le ragazze di Maurizio Gobbi hanno perso in casa al cospetto di Milano che si è imposta con il risultato di 10-4. Risultato però troppo penalizzante per le atlete pescaresi. Paolo Sinibaldi. Seconda giornata di ritorno del massimo campionato femminile di pallannuoto a Pescara. Il Milano si è imposto con il risultato di 10-4 parziali che raccontano come sempre un primo tempo equilibrato di 3-3. Poi il Milano ha allungato 3-0, 3-1 e poi un 1-0 finale. Un allenatore del Pescara, Maurizio Gobbi, non è contento perché sicuramente questa partita poteva essere l'ultimissima spiaggia per il Pescara ma l'impatto non è stato neanche male ma poi la prosecuzione della partita non è andata come vi aspettavate. Sì, hai detto benissimo. L'impatto è stato buono almeno nella parte offensiva dove invece temevamo più che potesse andare male perché il Milano è molto forte nella parte difensiva col portiere della nazionale e con un'impostazione che permette loro sempre di prendere molti gol. Invece siamo riusciti a scardinare subito tre volte bene la porta. Nella parte difensiva oggi abbiamo avuto grossi problemi all'inizio perché se la partita si incanalava in un modo diverso può darsi che potevamo condurla diversamente. Ma è chiaro che l'amazzata è grossa perché un risultato così pesante non me lo sarei mai aspettato e forse posso dire oggi non è neanche completamente meritato perché non posso dire che le ragazze non si siano impegnate. Non voglio assolutamente dirlo, non è stata come la partita con il Bologna. Ma appena si va sotto comincia una confusione generale di cui mi devo prendere responsabilità che ci porta a sbagliare tantissimo e a favorire gli avversari. Ed è tutto per la seconda edizione del nostro telegiornale. L'appuntamento è alle 23 per la terza edizione del TG6. Grazie e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.